L'Acquistoria è un premio letterario istituito nel 1968 per commemorare i militari della divisione Acqui caduti nell'eccidio di Cefalonia del settembre 43. Viene conferito da autori di opere storiografiche. A partire dal 1996 vengono premiati anche gli autori di opere divulgative e dal 2009 anche gli scrittori di romanzi storici. È ritenuto il più importante riconoscimento italiano nell'ambito della storiografia e uno dei più importanti a livello internazionale. Nonostante le leggi che impediscono un dibattito su alcuni avvenimenti del secolo scorso, di storia si riesce ancora a parlare e a scrivere. Storici, cattedratici, giornalisti e lettori si confrontano ad Acqui per arrivare alla premiazione di scrittori che ottengono il riconoscimento sulla base della qualità delle loro opere. Anche il premio gemello L'Acqui Ambiente gode del medesimo successo, tanto da avere registrato nell'ultima edizione la partecipazione in concorso di Papa Benedetto XVI.